Salute a tutti. Come vedete passa il tempo, sta passando un pochettino, si stanno affievolendo le intercettazioni, ce ne sono poche ormai e soprattutto dal punto di vista penale non c'è niente, anzi ci sono delle conferme, delle conferme particolari. Io non so quanti di voi seguono tuttojuve.net, il mio sito di riferimento, oppure calciogol.it. Sono abituato a dirigere questi portali in maniera molto particolare, molto decisa ma anche molto pulita, nel senso che io non pubblico tutto, non pubblico cose superflue, cose che si leggono ovunque, pubblico il pratico, il pratico. E allora oggi ho pubblicato un'intercettazione di Andrea Agnelli, che vi invito ad andare a vedere su tuttojuve.net. Ritengo personalmente che naturalmente è un fatto gravissimo che vengono dato in pasto all'opinione pubblica queste intercettazioni, ma a me fa piacere, ve lo sto dicendo, perché si sta emergendo il niente, è naturale che poi i cavaleonti anti-juventini danno loro un'interpretazione. Il problema è che vogliono assolutamente coinvolgere l'opinione pubblica in questa vicenda di carattere, diciamo, fangaiola per condizionare i giudici. Cioè loro vogliono condizionare i giudici. Ma secondo voi c'era qualcosa di penalmente rilevante? C'era bisogno di dare in pasto all'informazione quelle che sono appunto le intercettazioni? No. Proprio perché la procura è soccombente in questo momento, fa uscire le intercettazioni. Perché è una procura soccombente, lo ha detto il GIP, il giudice per le indagini preliminari, quando nei 544 pagine per la richiesta di carcerazione di Andrea Agnelli ha detto che non ci sono motivi per fare la carcerazione preventiva. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la procura, i sostituti procuratori, di cui vi ho parlato già nel video precedente, hanno avuto una mazzata, una mazzata enorme, ora rilanciano con la richiesta di rinvio a giudizio. Il GIP, il giudice per le indagini preliminari, Morello, ha respinto tutto, adesso vanno al GUP, giudice per l'udienza preliminare, che deve valutare, e nelle prossime ore lo sapremo, la richiesta di rinvio a giudizio. La Juventus ha fatto capire nettamente questa volta che in pratica si difenderà a tutti i livelli. Io dico che dovrebbe anche prendere questi giornali, dovrebbe avere un avvocato deputato a prendere in mano questi giornali siti e dare via ai processi di risarcimento, richiesti di risarcimento, affinché questi mettono mano al portafoglio, come Renzi con Travaglio, e in pratica li fanno stare un po' zitti. La Juventus dovrebbe dover monetizzare questo atteggiamento così fangaiolo che c'è, così accusatorio. Pensate che per il Napoli c'è stata la richiesta, il 3 novembre scorso, di 12 mesi di carcere per De Laurentiis, 11 mesi per Galliani e due anni e mezzo per il figlio di Moggi, nell'inchiesta relativa alle plusvalenze e al fasso in bilancio, già sanzionata come quella della Juventus in termini di giustizia sportiva, con l'assoluzione totale. A proposito di giustizia sportiva oggi la stampa, perché poi in questa barahonda si tuffano i camaleonti, coloro che sono alla ricerca di visibilità e allora è circolata una dichiarazione, adesso lo so che gli stiamo facendo pubblicità ed è quello che lui chiede, però quanto meno fateci mettere a ridere, fateci mettere, Mattia Grassani, un avvocato di Bologna, Mattia Grassani, che non è lo stesso che ha difeso il Napoli, cioè non è Giannettore Grassani, il matrimonialista è un altro. Questo Mattia Grassani è di Bologna, scenario preoccupante ha detto, vi voglio far vedere quale sono le sue competenze e quanto mai ha fatto un processo di diritto sportivo. Iscritto all'albo degli avvocati di Bologna, laureato nel 1988 presso l'Università degli Studi di Bologna Collone, area di competenza, consulenza legale civile, contenzioso processo civile, contrattualistica, diritto societario e impresa civile, diritto del lavoro e poi diritto sportivo, parla le lingue inglese e spagnolo, ma di italiano capisce poco e credo pure di diritto sportivo, il quale aveva avanzato questa tendenza accusatoria che fa comoda alla Stapa, come quando parlava Zeman contro la Juve, come quando Collina decideva contro la Juve. Chi va contro la Juve? ecco questa vetrina nazionale che viene fuori ed è per questo motivo che stanno cercando di trasformare un processo ordinario in un processo mediatico, tanto da condizionare i giudici, perché se no non c'era motivazione, se la procura era così convinta di avere in mano situazioni probanti per incastrare la Juventus, non avrebbe fatto uscire queste intercettazioni, perché poi ne stanno parlando alcuni grossi esperti di diritto che hanno scritto i libri sui processi mediatici, il processo mediatico va a condizionare il giudice, purtroppo, ed è quello che si sta verificando. Se questo Mattia Grassani non si è mai visto in un processo di diritto sportivo, ma nella sua consulenza ha anche questa competenza, ha fatto una dichiarazione e addirittura lanza la dispacciata in tutta Italia, tutti i giornali l'hanno preso, i siti non ve ne dico, ecco che ci troviamo di fronte a questo ciclone mediatico anti-Juventus per costringere i giudici a cambiare le carte in tavola. Questo è successo nel 2006, i fatti poi hanno chiarito che la Juventus non aveva alterato il campionato 2004-2005, che invece era stato alterato per far vincere il Milan. Questo emergeva dalle intercettazioni. In questa situazione, in questo contesto, si vuole fare la stessa cosa. Non c'è nessun motivo per condannare la Juve, perché l'unico motivo di carattere penale, l'aggiotaggio, ammesso che venga dimostrato, o l'alterazione di alcune fatture false, cosa che in questo caso non c'è nel processo già celebrato sportivo, dove la Juventus con il Napoli e altre nuove squadre è stato assolto, al che vogliono trasformare una situazione di netta assoluzione in una sentenza contro la Juventus. E la parola magica, attenzione, quando leggete queste cose, sapete qual è? La parola magica è bisogna far presto perché il processo sportivo si deve concludere entro l'anno. Sapete che vuol dire questo? E mettono pressione ai giudici e se i giudici di carattere ordinario, quelli del Tribunale, se si farà il processo e se lo si farà a Torino o per competenza a Milano o a Roma, se lì si va a sentenza tra 3-4 anni, ammesso che si va a sentenza e la Juve non chiederà il rito abbreviato questa volta, lo sappiamo già per certo, ammesso che venga mandato a processo, aspettiamo prima di dire che viene mandato a processo, vogliono insistere sulla giustizia sportiva che praticamente è molto labile, molto influenzabile come fu nel 2006 i cui giudici della Federazione Italiana Gioco Calcio decisero dicendo il falso e secondo me meritando oggi per allora il carcere, la galera. I giudici di primo e di secondo grado che hanno mandato la Juventus in serie B senza lo straccio di una prova, una sola prova, andrebbero oltre che radiali arrestati quei giudici sportivi lì. Sandulli che poi ha ammesso che hanno agito perché c'è stato la pressione pubblica ma noi per pressione pubblica solo perché la Juve sta sul cazzo a tutta Italia dobbiamo decidere quello che sti frustrati, sti perdenti, sti rosiconi, sti roditori che non fanno altro dalla mattina alla sera si fanno incornare dalle mogli, vanno a giocare in bollette, le bollette, fanno il toto nero e poi pretendono anche di dire la loro parola sui social in mezzo alla strada e grazie alla compiacenza dei giornali che non dovete leggere perché fate schifo se leggete i giornali, mi riferisco ai tifosi della Juventus, vogliono arrivare al processo mediatico, al processo sportivo che è una vendetta trasversale perché la Juventus gli ha devastato il cervello, gli ha fatto il culo così sul campo e Agnelli diventa un delinquente e Paratici diventa un assassino e Nedved diventa un truffaldino, gente che ha saputo vincere, ha saputo portare avanti una situazione e ora si scopre attraverso le intercettazioni che durante il lockdown la Juventus ha cercato di ragionare, di confrontarsi per spostare il pagamento degli stipendi, cosa che hanno fatto tutti giustamente per la Juventus, per i giudici, per l'opinione pubblica diventa un fatto negativo, un virtuosismo, all'epoca fu detto che era un virtuosismo, che la Juventus era arrivata a rinviare il pagamento dei giocatori, ma scusatemi ci sono altre società, non per dire sempre la stessa, l'Inter che ha vinto lo scudetto, quello senza il pubblico, con Conte in pagina, senza pagare gli stipendi in tempo, nessuno ha parlato, nessuno ha intercettato, questo invece è una volta, la Juventus tiene l'accordo con l'Andrang, la Juve parte l'ese in quel processo, la Juventus vuole prendere Suarez, fa accorciare i tempi, chiede di accorciare i tempi, chissà quale delitto aveva commesso, intercettazioni, pressioni, titoli di stampa, le plusvalenze che è un virtuosismo amministrativo che tutti fanno in una maniera molte volte anche discutibile, il caso Simeni, il caso Casadei e tanti altri casi vi potremmo dire, succede la Juventus no, quelli vogliono barare, mi avete rotto i coglioni a me, non vi credo, non ci credo, non ci posso credere, mi sto informando su tutto e non mi ergo né a giudice né a avvocato né a diciamo a commendatore giudiziario, anche se la giudiziaria giornalisticamente l'ho fatta per tanto tempo, in processi anche importanti di mafia e di camorra, quindi riesco a leggere bene le carte, ma dove volete arrivare? L'unica cosa alla quale possono appendersi perché le plusvalenze non possono parlare, il falso in bilancio, la FIGICI, la COVISOC ha detto che il bilancio era sano e non c'è stata alterazione di bilancio, viene Stumattia Grassari che non sa nemmeno chi le ha create e parla di situazione inalterata, o meglio alterata, oppure dobbiamo subirci, mi dispiace, amici colleghi napoletani, le cui congiunture sono frustranti, vittima di frustrazioni decennali, ventennali, trentennali, fanno tutte complotti e vogliono parlare di una società modello, hanno trovato la palla in balza e voi li state pure a sentire, io li sento un minuto e mezzo e chiudo, non vi dico il nome e i cognomi perché siamo anche amici da tanto tempo, ma non si può agire in questo modo, senza parlare poi di chi continuamente va sui social, ma quelli sono comprensivi, sono degli ignoranti, quelli sono gente frustrata, è gente devastata dalle vittorie della Juventus, adesso stanno trovando l'agiotaggio, nessuno sa che cos'è l'agiotaggio, non lo sa nessuno, l'1% di tutta Italia, sa che cos'è l'agiotaggio, non sa né dove si trova né dove sta né che cos'è e hanno presso la dichiarazione di Di Bala, ve l'ho detto già in un'altra circostanza, Di Bala ha detto chiaramente quello che c'era scritto nel comunicato, quel comunicato ufficiale di fine marzo 2020, secondo la procura è un comunicato che voleva prendere in giro gli scommettitori, gli azionisti che vanno in borsa ed è questo l'agiotaggio e invece sul comunicato della Juventus c'è scritta la stessa cosa che ha dichiarato Di Bala, cioè che è stato trovato un accordo con i giocatori per avere gli stipendi l'anno dopo, come giusto che sia perché non si sapeva se il campionato cominciava o non ricominciava, intanto lo fecero ricominciava perché la Juve era prima in classifica perché era cristallizzato, se no perché se la Lazio che era seconda fosse stata prima in classifica lo Scudetto lo avrebbero dato a marzo la Lazio, questo è un fatto certo, per cui questa situazione, voi dovete controbattere, mi riferisco ai tifosi della Juve, dovete perché se no questa c'è una verità, una situazione di come dire, di innocenza, la trasformano in una situazione di colpevolezza, ricordate il silenzio degli innocenti è ancora più grave delle colpe di cui si è ingiustamente tacciati, ecco perché ve lo sto raccontando con il cucchiaino, vedete tutti i miei video, vi sto dicendo cosa sta succedendo, non li state a sentire, questi qua sono alla ricerca di visibilità, ma vedete in televisione quante puttanate che dico e voi andate a pagare pure la tassa sulla televisione della Rai e voi ancora vi guardate i programmi di Mediaset, ma mai più, cioè io già non li vedo da una vita, perché io la televisione la faccio e non la subisco, quindi non dovete ergervi a vittime, non li pensate, parla il rancore, parla la rabbia, parla la bile, l'Italia non è ai mondiali, allora si deve trovare il momento per parlare, se condanneranno la Juve io non ci credo, è inutile, se la condannano come fecero nel 2006 la condannarono con un articolo che non esiste, che è l'illecito strutturale, se la condannano per quello, io non ci credo, è inutile che mi vengono a dire, pure se mi portano le prove, non ci credo, sono prove che loro manomettono, vi sto parlando da mesi di questa cosa, andate a vedere, quando fecero la richiesta di carcerazione, andate a vedere un mio video del 24-25 ottobre, cosa dissi? Per cui anche quando vengono sotto i miei video gli anti-juventini, non c'è un anti-juventino che fa una dichiarazione, diciamo anche contro la Juventus, se ci mancherebbe, rispettabile ed educata, no soltanto porcherie, insulti e via dicendo, cioè lo specchio della squadra più fallita d'Europa, l'Inter, della squadra più perdente d'Europa che la mia seconda squadra, cioè il Napoli, perché io se non vincerò io per me deve vincere sempre il Napoli, però i tifosi del Napoli, non gli abitanti per carità, non la città, ma i tifosetti del Napoli dicono bugie, porcherie, perché poi stanno a sentire i veri nemici del Napoli, i giornalisti napoletani e sono i veri nemici del Napoli, sono quelli che mettono zizzania, spaccano il Napoli, perché la tifoseria napoletana nel complesso è molto matura, è matura per vincere lo scudetto e ben altro secondo me, ma i giornalisti napoletani ne sanno una più del diavolo e sono coloro che ammazzano il Napoli, prima che uscisse questa situazione nelle more della ripresa del campionato, qualcuno di loro che è stato sputtanato da Cruciani e sputtanato a livello nazionale, cominciava a dire che c'era un disegno, un complotto per far raggiungere il Napoli, che sta meritatamente 10 punti più della Juve, 11 più dell'Inter e 8 più del Milan, quindi con il vento in poppa e secondo me ha già vinto lo scudetto, ma loro, ho già parlato di complottismo, mo' si ergono a giudici dei coglioni, si ergono, sono tutti sapiendosi, sono tutti pubblici ministeri, sono tutti giudici, sono tutti gip, sono tutti gupp, questi sono trasformati, tutti con un'antologia, tutta loro, ma questo va scassato il cazzo, ok, cioè sono poi quelli là che fanno perdere il Napoli, perché ogni volta che il Napoli sta davanti sono loro, sono loro che mettono zizzania, purtroppo la vera nemica del Napoli è la stampa napoletana e anche questa volta tutto questo, tutte queste fake, questo rancore della stampa napoletana si rivolgerà contro il Napoli ancora una volta, perché finiranno, finiranno, vedete come ve lo dico, all'inchiesta che c'è sul Napoli, finiranno per farla venire più su, adesso l'hanno sottaciuta, c'è la richiesta di carcerazione per De Laurentiis firmata il 3 novembre scorso, per le plusvalenze il falso in bilancio, ma nessuno ne aveva parlato, nessuno ne ha parlato, la loro presupponenza farà venire fuori questa vicenda, vi faccio vedere, perché i tifosi del Napoli, ripeto, stanno avendo una grande maturità negli ultimi anni e merita non solo lo scudetto, tutto il bene possibile, anche perché hanno una squadra francamente chapeau, eccellente, ben costruita, hanno un dirigente come Giuntoli che secondo me è il migliore che c'è in Italia, un presidente come De Laurentiis, tra i migliori in circolazione che hanno contestato, schifato, messo striscioni, gli hanno fatto di tutti i colori, però ora il pubblico sta capendo a Napoli, è la stampa napoletana, che è una stampa pericolosa per il Napoli, fanno fare tutti quanti i filosofi, non c'è scassa a tu, cazzo, sti quattro sciemi che non sono altro che cinque o sei falliti, che non sanno nemmeno dove mettere le parole, che vanno avanti a botte di pagine e paginette, non ne azzeccano uno, sono contestati dagli stessi tifosi del Napoli, che non li sopportano, perché i tifosi del Napoli hanno capito che la stampa napoletana è il vero guaio del Napoli, lo hanno capito da tempo e alla maturità del pubblico napoletano non ha fatto riscontro la stessa maturità della stampa napoletana, perché finita la vecchia gloria della stampa parte europea che tra le migliori italiane, io ho portato all'esame di terza media una narrativa SSC Napoli di Giuseppe Pacileo e l'ho raccontata tutto ai miei insegnanti e alla commissione della terza media, perché mi veniva raccontata da un giornalista importante come Pacileo, non ci sono più i Pacileo purtroppo a Napoli, purtroppo oggi ci sono dei faccendieri affaccendati alla ricerca di vendere qualche click, di prendere qualche telespettatore o di vendere qualche copia di quei giornali straccia che non esistono più, non si ricombra più nessuno si giornale, né a Napoli e né in tutta Italia. Quindi queste porcherie, questo tipo di situazioni che stanno creando sono soltanto gli arrampicamenti sugli specchi di gente calcisticamente fallita, fallita perché chi vi mente sapendo di mentire è intellettualmente un fallito. Purtroppo c'è gente che non ha potuto fare altro nella vita, non è andato alla RAI, non è andato a Mediaset, ha il bruciore di popò per queste cose qua e sfoga sulla Juve per avere un po' di consenso, per andare a prendersi il cornetto al bar e prendersi la pacca sulla, sulla, oh, come è bello, come è bello, come è bello, come è bello, eh, questo, quello è il cervello, quello è il cervello. Hanno venduto l'anima al diavolo questi disgraziati, pur di prendere qualche click, qualche consiglio, o dire la loro. torniamo a noi e vi dico che è palese, i più grandi esperti veri di diritto sportivo ritengono che non c'è nulla dal punto di vista sportivo, la Juve è già stata ampiamente per questi reati che la procura contesta, contesta, attenzione, non c'è nessuna sentenza, la sentenza di carattere sportivo già sono stati, sono stati acclarati insieme al processo al Napoli, sentenziati con un nulla di fatto, con una soluzione. Il problema è, no, mi viene un'altra cosa, cioè stanno dicendo che le squadre di cui si parla nell'intercessazione, cioè il Genova, il Sassuolo, l'Atalanta, l'Udinese, erano le squadre con le quali la Juventus, poi lo chiamano scansuolo senza sapere che negli ultimi anni il Sassuolo ha vinto più volte contro la Juventus che la Juventus contro il Sassuolo, ma pure qui mentono, sapendo di mentire. Cioè, purtroppo devo dire a questo punto, l'affare grosso, la Juventus, lo ha fatto con il Napoli, perché si è andato a prendere Uguain e là c'era la patta tra De Laurentiis e Marotta, comparateci, lo sanno tutti, che la Juve aveva detto, vedi, mi vengo a prendere il giocatore e lui metteva i 92 milioni in saccoccia ed era d'accordissimo, l'ha detto Uguain, l'ha detto il fratello di Uguain, l'hanno detto tutti. Quindi la Juventus faceva accordi anche con il Napoli, se la vogliamo dire tutto. Voler dire che questi 6-7 club poi potevano anche scansarsi perché davano i giocatori, cioè il Napoli li chiedeva, l'Inter e il Milano li chiedeva, ma non li davano alla Juve. Ma che cosa dite? Ma che cosa pensate? Avete la mente fradicia? Avete la mente fottuta? I nove scudetti vi hanno devastato il cervello e lo dico alla stampa napoletana e a tutta quella stampa anche non napoletana che vive, perché fallita sui tweet contro la Juve e non esistono più. Ora vi prendo una lista di giornalisti, solo un attimo. mi sono segnati da qualche parte, vediamo se li trovo. C'è una lista di giornalisti falliti, totalmente cacciati dalle loro emittenti. Ziliani, Liguori, Paolo Liguori destinato a fare, a dirigere un sito. Pistocchi, Piccinini, i fratelli Barzacchi che ancora sono in auge, uno a Sky e un altro a Mediaset. Cioè gente questa che fa tweet contro la Juve, per non dire il principe dei roditori, il principe dei vigliacchi, tal varriale schifato anche a Napoli. Ma di cosa dobbiamo parlare? Cioè questa gentaglia vive sui tweet contro la Juve, succede la minima cosa, tweet contro la Juve, alzano un polverone anche nelle sedi dei giornali, nelle redazioni dei giornali, tanto da voler volutamente ribaltare le sentenze. Ma vi dico una cosa, una sentenza non si può mai ribaltare, una sentenza non si può mai ribaltare, è quella del campo. Scrivete tutte le porcherie che volete scrivere, dite tutte le panzanate che volete scrivere, dite tutte le stupidaggini che volete dire. La sentenza vera è quella del campo. E lì non vi conviene quella sentenza, accettare quella sentenza non vi conviene. Perché l'atteggiamento accusatorio, malvezzante, questo modo di voler cambiare le carte in tavole con una pressione mediatica schifosa, vergognosa, è solo l'ultima chance dei falliti, dei disperati, degli omuncoli, di chi non ha dignità, di chi non ha onestà intellettuale. Cosa vi dobbiamo dire? Spiegare a questa gente la verità è inutile perché loro sono la Juve rubba, la Juve rubba, la Juve rubba. Quello si hanno fatto. Non hanno altri argomenti perché non ne possono avere. La Juve rubba ma non possono dimostrarlo. In nessun modo, in nessuna maniera. Adesso stanno ipotizzando che la Juventus aveva tutti sti soldi, no? E quindi il mercato lo manometteva e si andava a prendere i giocatori. Quando i giocatori sono stati soffiati nella Juventus? Nell'era di Berlusconi non ci veniva nessuno a giocare con la Juventus perché non avevano soldi. Poi adesso hanno trovato i capri espiatori negli umbertiani. Cioè, gli umbertiani sono quelli vicini a Umbertagnelli, che hanno anche attualmente la Juventus prima del battone del Consiglio di amministrazione, che solitamente è la Juve più vincente. Guarda un po', ce l'hanno con gli umbertiani e non con i giagnani. La Juve poi di Giagnagnelli è più morbida, è più simpatica con Boniperti e via dicendo. Fa tutte operazioni invece l'attaccavano pure quando c'era Giagnagnelli e Boniperti, sempre l'hanno attaccato. Quella con Umberto Agnelli, gli umbertiani, Umberto Agnelli ha distrutto il calcio italiano, Umberto Agnelli ha distrutto il calcio italiano. Ma solo delle menti perverse possono dire questo. Cioè la sconfitta che avete nel cuore, perché siete gente sconfitta nell'anima, nel cuore, nella testa, vi fa dire queste cose. E mi dispiace che c'è anche persone che stimo, che sento dire queste cosucce. Certo a me mi guardano poche persone, poche irrispettabili. Sono tanti, io dico che sono sempre poche. Però io vi dico la verità, nessuno riesce a ribattere le mie verità. Nessuno, nessuno. E anche quando andate a scrivere sotto che l'ho detto prima, aspetto tanti commenti, anche contrari, nettamente contrari, ma con educazione. Commenti schifosi vengono alcuni cancellati, altre risposte, con risposte appunto ancora più schifose, perché con gli scostumati ci vogliono i maleducati. E oggi chi parla della vicenda Juventus in maniera scostumata, ricordatevi, io faccio il maleducato, io nel mio piccolo, e invito a fare i maleducati tutti coloro che ritengono, e mi metto naturalmente dei panni dei tifosi della Juventus, ai quali invito a vedere i miei video perché vi dico la verità, vi do tutte le dottrine per parlare, far video, scrivere, andate sui social, ovunque, e ribatteteli, perché non hanno argomenti, sanno dire solo la Juve ruba. Non hanno più argomenti, non ce li hanno, non li hanno mai avuti, hanno avuto solo mazzate, mazzate. E allora, sapete, uno lo bullizzi una volta, lo bullizzi un'altra volta, e la Juve li ha bullizzati, sono tutti bullizzati. Ci sono i bullizzati intellettuali, che fanno i giornalisti, gli bullizzati avvocati, che si intromettono, sono gli bullizzati sugli stati. Ci sono i bullizzati ovunque, la Juve li ha bullizzati, li ha stravolti, li ha distrutti. Ci vediamo successivamente. Non vi fate coinvolgere, la Juventus è innocente. Agnelli è innocente, lo ha detto il GIP, il giudice per le indagini preliminari. È innocente. Se li rivieranno a giudizio, si farà un processo, si difenderanno, ma ricordatevi, io non credo a nessuna accusa verso la Juventus. Se il GIP, il giudice per le indagini preliminari, di fronte ad una richiesta di 544 pagine, in quelle 544 pagine ci sono le intercettazioni che state leggendo in maniera sbagliata sui giornali, perché vi fanno vedere, vi danno uno spezzone una volta, uno spezzone un'altra volta, decontestualizzando la situazione e facendovi sembrare che stanno barando. Invece no, non c'è una, una intercettazione che possa far pensare ad una violazione penale. Non ce n'è nessuna. Le interpretano loro, nessuna, sono tutte intercettazioni pulite tra persone per bene, di una società modello, di una società che nel mondo è presa ad esempio. No dati i quattro sce, così non è andata giusto, dovete stare a casa, niente mondiali, no ai mondiali, no ai mondiali, Italia no ai mondiali, perché questa è merda, non meriti di andare ai mondiali. Quando lo dicevo da tempo, l'Italia non deve andare ai mondiali perché una squadra che è un gioiello, è un modello, in tutti i sensi viene attaccata e vi dipesa, è la squadra più vincente del calcio italiano ed è giusto che non ci va ai mondiali. State va a casa, guardate voi il Brasile, ti fate ammessi, tanto questa è la vostra fine, la vostra fine. Giornalisti, avvocati, giuristi, tifosi, ultras, siete perdenti, siete condannati, condannati a rosicare a vita perché la Juve c'è, ci sarà, pure se va in Vinci e non ci va, risalirà e vi farà il culo così, vi farà il mazzo tanto, perché voi siete i bullizzati della Juventus, siete dei devastati della Juve, non avete altro che volerla battere fuori dal campo, perché sul campo è la più forte. E statevi buone!